Musica Ben tornati e ben trovati Ci ritorno nuovamente qui con Tonio94 In un nuovo videogameplay Questa volta siamo su Pokémon Versione Platino Sono registrato con Camtasia Quindi chiedo scusa se non La qualità del video oppure il video stesso Sarà un po' incasinato E si il gioco è in inglese Io non me lo ricordavo Chiedo scusa Vabbè io le mostre sono tutto in inglese Non mi devi dare niente Se io voglio premere quel pulsante Io premo un pulsante che me pare Yeah yeah whatever whatever Che ho scelto Platino perché A parte il fatto che adoro la quarta generazione E' il migliore dei tre Tra perla diamante e platino è il migliore Perché a parte il fatto che c'è più libertà Nella scelta di Pokémon Non devi stare a vedere che versione c'hai Notate la mia velocità con la tastiera Yes Grazie Mi hai detto che Un nome Va Ho un'idea Chi lo conosce lo capirà chi è questo Di chi è sono Zula Assolutamente Spero che il volume non sia troppo alto L'ho messo al 5% Yeah 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 whatever Mi picciolisco Mi piccolisco Mi piccolisco E' questa musichetta Spero che il taglio del video non sia male perché Mi arrabbio Siamo concludendo il nostro programma speciale Siamo chiamati Prof. Rowan Brought to you by Jubilife TV On Netty Wide Net See you next week Same time Same channel Oh bravo Potrei farlo Oh Che cazzo intri in casa della gente There you are Yes Prof. Rowan Prof. Cazzato Ho detto Questa significa che Deve avere molti Molti Pocamoni Sì 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 Lascia stare il mio computer Sì Dove riguardare quale pulsante Al Yes Ok Quindi questo dovrebbe essere Y Ok Me lo ricordo più o meno Tu non sei mia madre Mia madre ha i capelli biondi Questa sciarpetta La mia sciarpetta Dolce Gabbana No Non lo so Ok 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 Tu hai un po' Ma tu non Sì 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 Ciao mamma Lugge un po' Che falle voglio andare a essere più veloce Non voglio Datemi le scarpe da corsa subito Come gli nuovi Sì 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 If you're late Fine Fine Ok Mi pare che molta si diceva in un'altra maniera Comunque Camminiamo lentamente Sono lento Troppo lento Sì Sì Ma mia madre non vuole che entri dentro l'erba Fumatela intanto no? Sì Trust me Now listen You know how wild pokemon jump out when you got the little grass? Yes You just cut over the next patch of grass before any wild pokemon can appear Fidati Non succederà mai Zola lo spericolato Hold it Aspetta You don't promise seem to have any pokemon to you Yes And what's the meaning of going to the little grass? I don't know This old guy It's Prof Rowan, isn't it? What's it doing here? I have no idea Oggi parlo inglese Sento molto british They tried to go into the tall grass because they wanted pokemon What to do? Their world would surely change if they were to meet pokemon Is it right for me to put them on that part? I don't know Magari se smetti di parlare con le tue voci interiori Con le tue voci che entrano dentro Yes You two truly love pokemon, do you? Give me a little pokemon, I don't want to make a mutuo for the house Yes 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 I can't I don't know I can't No 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 Oh L'inglese. Thank you so much. Pardon? What? Sì, cosa? Adesso parliamo l'inglese? Oui, oui. Non lo so, il francese, maledizione! Non so lo spagnolo, potremmo l'inglese. For them, today is that time. Yeah, 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 whatever. Really? 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 Ci metterò una bella... Civetta, no? Non ce l'ho. Sono classico. Cazzo di tuoi, mi prendi tutti. Potrei anche prendermeli tutti, se volessi. No, non l'avrei mai detto che sono Pokéball! Mio Dio! Adesso mi hai sconvolto il mondo! No... No... Yes! Spero sia maschio. Yeah, yeah. Si lo so tanto la perdo la mia battaglia contro questo, quando c'hanno i Tartwig cominciano a spammare... ...ehm... aumenti di difesa. Yeah, 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 whatever. Go away! I'm sorry, please let me pass. Yeah, thank you. Thank you very much. Oh, sì. Do you like that? That's really nice. From tivus, it seems so stern and scary. Well... La TV, tutti... Oh, che cazzo vuoi? Se siete trasportato! Mistero! Mistero! Yes! Il tempo è arrivato! 2.94, io ti challenge a una battaglia. Ovviamente, io sarò freddo! Che figa, la musica del quarto... della quarta te. C'è un po'... qualche piccolo problema di cosa di... Pawn, però... Fiepisco l'inglese, guarda, di centromila volte all'italiano. AC2. Scusa... Tu, tu mi attacchi, io non ti posso attacca, scusa, che è sta storia? Minchia. Camblotti! Ecco, la... Witch Rogue... Ritirata. Sì, sto abituato alle serie... A quelli più recenti dei giochi di pomo, perché se tu vai a vedere... Quelli... Della sesta generazione, praticamente... E vai a vedere, già a livello 5 ci hanno le mosse speciali tipo... Bracere... Assorbimento... Bolla... quello che cazzo... Non è che non so neanche da quanto sto registrando... Però non ho messo il microfono... Continua, non te... Tranquillo... Non... 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 E continua... Ok, lo chiamerò Zola... Lo spericolato... Della ritirata... Sì, sì, lo chiamo così... Spero lo vedrà questo video... Mi sembrava due risate... Mi piacciono i versi... Ehi, la madonna! Yes! Level up! Oop, è finito... Eww, let's go home! I'm here for that bottom... My... My Pokemon needs a red too... See ya! Ok! E si apre qualcosa da confio... What's the matter, dear? Wow! That's what happened to you? You and Zola are lucky to admit... Profo, and... Imagine if you didn't... I would've liked to think what the white Pokemon might have done to you... Vabbè, lasciamo vedere... In teoria... I like Pokemon... So come gli animali qui... Nel mondo reale... Non... Go see, Profo, and... Thank him probably for your Pokemon... Is lab in Sedgman Town, isn't it? Not that you have your own Pokemon... The tulgras won't be a tooltratering... Oh, I know... Put this stone! Raining Shoes! Oh, look at this! Yes! Going to Sedgman Town... Is like an inventory itself, right? With those running shoes... You can get far away... Please... Please... Fuck it! Non me va più! Yeah, 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 whatever... No, 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 no... No, no! E' la cosa bella che... In questa se... E' nella... Oh, che lagata... E' la quarta generazione... Si può correre dentro le case... Nella terra non si poteva... Dalla quarta generazione poi si poteva correre... Lago come la merbero... Vediamo il nostro... Ok, ma... Il mio piccolino! Ah, ciao! Vediamo... Neve dovrebbe essere... Oddio, non me la ricordo... Però non è una cosa buona... Tipo... Non lo so, non me la ricordo comunque... Lights with food... Beh! Torrent sarebbe acquaiuto... Oh! C'è un sacco di attacco speciale... Bono! Good! Beh, direi che come primo episodio... Può iniziare... Ditemi se mi piace questa serie... Di commentarla sotto... Di iscrivermi al video canale... Di solidarietàzioni... Mi piace, condivisioni... Qualsiasi cosa saranno ringraziate... Con altri video... E vi ricordo che con un gamepad alla mano... Si può cambiare il mondo... Bye bye! Bye bye!